3, 2, 1, siamo? 3, 2, 1, go, via! Allora Aldo, qual è il giocatore più forte tecnicamente in squadra? Tecnicamente in squadra il più forte penso Rolando. Quali sono i vostri soprannomi in campo? Allora lui Aldo, io Clem, poi c'è socio. Allora giorno più bello della tua vita? Sono le stesse domande. Il giorno più bello della mia vita? Di qualche fatto l'altro giorno. Non lo so, c'ho una vita triste ma non c'ho un giorno più bello. Donna mia! Cosa pensi di me? Questo mi piace, cosa pensi di me? Allora penso... Allora Simona Oriletto è un gran bel giocatore, oltre ad essere un gran bel ragazzo. E poi? E' una persona di cuore, una persona umile, è un gran permaloso, questo lo sottolineiamo. Però è una persona buona e ci vorrebbe... ti vorrei sempre un esporto. Ah, grazie! Grazie! Un mio pregio? Un tuo pregio? Intelligente. Ah, un tuo pregio allora, intelligente, sei un tuttofare... Basta, un mio pregio, basta. No, no, aspetta, ce ne hai di pregi, voglio essere, voglio ricambiare. Vuoi ricambiare? Ehm... Basta, non vengo più in mente. Un saluto a tutti i tifosi, da Clemente a Oriletto. Forza Pro! 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 Cosa dobbiamo dire? Aspetta! Non ci rientro! Aspetta! Grazie a tutti.